Non era insolito per l'ispettore Lestrade di Scotland Yard venirci a trovare la sera, e le sue visite erano sempre ben accette a Sherlock Holmes, perché lo tenevano informato di quanto avveniva al quartier generale della polizia. In cambio delle notizie che Lestrade gli portava, Holmes era sempre disposto ad ascoltare con attenzione i particolari del caso al quale l'ispettore stava lavorando in quel momento, e occasionalmente, pur senza interferire nel suo lavoro, era in grado di fornirgli accenni o suggerimenti basati sulle proprie cognizioni e la propria esperienza. In quella particolare sera, Lestrade aveva parlato del tempo e dei giornali, poi si era mutolito, tirando pensierose boccate dal suo sigaro. Holmes lo scrutava attentamente. «Halle prese con qualche interessante caso?» domandò. «Oh no, signor Holmes, niente di speciale. Me ne parli!» Lestrade si mise a ridere. «Beh, signor Holmes, inutile negare che effettivamente sono un po' preoccupato, eppure è una faccenda così assurda che esitavo a disturbarla. D'altro canto, anche se banale, è innegabilmente strana, e so che a lei piacciono le cose fuori dal comune. Ma, secondo me, questa volta rientra più nel campo del dottor Watson che nel nostro. «Una qualche malattia?» chiesi. «Una follia, per l'esattezza, e una follia molto bizzarra, per Giunta. Non ci si crederebbe che, oggi come oggi, esista qualcuno che odia tal punto Napoleone da distruggerne ogni immagine che vede.» Holmes si sprofondò in poltrone. «Questo è esula dal mio campo», commentò. «Appunto, è quello che ho detto. Ma quando quest'uomo diventa scassinatore, per distruggerne delle immagini che non gli appartengono, allora esce di scena il medico ed entra il poliziotto.» Holmes si rizzò di nuovo. «Uno scasso. Questo è più interessante. Avanti, sentiamo i particolari.» L'estrade tirò fuori il suo inseparabile taccuino per rinfrescarsi la memoria. «Il primo incidente denunciato risale a quattro giorni fa», disse. «Nel negozio di Mors Hudson, che vende ritratti e statue a Kennington Road.» Il commesso era andato per un momento nel retrobottega quando sentì uno schianto. Tornò indietro di corsa e trovò un busto di gesso di Napoleone, che stava, con altri oggetti d'arte sul bancone, a terra in mille pezzi. Si precipitò in strada, ma anche se vari passanti dichiararono di aver visto un uomo fuggire dal negozio, non riuscì a scorgere nessuno né a identificare in qualche modo il furfante. Sembrava essere uno dei tanti sconsiderati atti di teppismo che si verificano di quando in quando, e come tale venne riferito alla gente di pattuglia. Il busto di gesso non valeva che pochi scellini e tutta la faccenda dava l'impressione di uno scherzo da ragazzi, e quindi non venne svolta alcuna indagine. Il secondo caso, però, fu più serio e anche più singolare. È accaduto ieri sera. A Kennington Road, a poche centinaia di metri dal negozio di Marsatzen, abita un medico generico molto noto, un certo dottor Barnicott, che ha una delle clientele più vaste a sud del Tamigi. L'abitazione e lo studio principale sono a Kennington Road, ma ha anche uno studio e un ambulatorio a Lower Brixton Road, a due miglia di distanza. Questo dottor Barnicott è un ardente ammiratore di Napoleone, e la sua casa è piena di libri, ritratti e cimeli del primo console di Francia. Un po' di tempo fa aveva comperato da Marsatzen una copia di calchi in gesso della famosa testa di Napoleone, scolpita dall'artista francese Devine. Uno l'aveva messo in anticamera, nella casa di Kennington Road, mentre l'altro era sulla mensola del caminetto nell'ambulatorio di Lower Brixton. Bene, scendendo questa mattina, il dottor Barnicott ha avuto la sorpresa di scoprire che qualcuno si era introdotto in casa durante la notte, ma non era stato portato via niente, tranne la testa di gesso dall'anticamera. Era stata portata fuori e sbattuta violentemente contro il muro del giardino, ai piedi del quale sono stati trovati i frammenti. Holmes si sfregò le mani. «Questo è davvero insolito», disse. «Immaginavo che le sarebbe piaciuto, ma non ho ancora finito». Il dottor Barnicott doveva trovarsi all'ambulatorio a mezzogiorno, e può immaginare il suo stupore, quando, arrivando, vide che la finestra era stata forzata durante la notte, e che i frammenti del secondo busto erano sparsi per tutta la stanza. In entrambi i casi non c'era assolutamente nulla che potesse fornirci un indizio sull'autore del danno, pazzo o criminale che fosse, e questi, signor Holmes, sono tutti fatti. «Molto singolari, per non dire grotteschi», osservò Holmes. «Posso chiederle se i due busti frantumati dell'abitazione e dell'ambulatorio del dottor Barnicott erano gli esatti duplicati di quello che era stato distrutto nel negozio di Morsatzon? Provenivano tutti dallo stesso stampo. E questo è sufficiente a smentire la teoria che il distruttore è qualcuno che odia Napoleone. Considerando quante centinaia di statue dell'imperatore esistono sicuramente a Londra, è impossibile pensare che sia per pura coincidenza che un indiscriminato iconoclasta debba cominciare proprio da tre copie dello stesso busto. «Ecco, per dire la verità, lo avevo pensato anche io», convenne Lestrade. D'altro canto, Morsatzon è il fornitore di busti di quel quartiere di Londra e quei tre erano i soli che avesse in negozio da anni. Pertanto, se come dice lei, esistono centinaia di statue napoleoniche a Londra, è molto probabile che quelle fossero le sole della zona ed è perciò naturale che un fanatico locale abbia cominciato da lì. Lei che cosa ne pensa, dottor Watson? «Non esistono limiti alle possibilità della monomania», risposi. «Esiste quello stato che gli psicologi francesi moderni hanno definito come «idee fixe», che può offrire sintomi trascurabili ed essere accompagnata per il resto da una completa sanità mentale. Qualcuno che abbia letto molto intorno a Napoleone o che abbia ricevuto durante le guerre napoleoniche qualche offesa familiare ereditaria potrebbe aver concepito una simile fissazione e può aver agito di conseguenza sotto il suo influsso, commettendo questi assurdi oltraggi. «No, mio caro Watson, non fila», disse Holmes scuotendo la testa. «Perché nessuna idea fixe avrebbe consentito al suo originale monomaniaco di scoprire l'ubicazione di quei busti». «Bene, e come spiega allora questo fatto?» «Non tento nemmeno di farlo. Mi permetto soltanto di osservare che nelle azioni di questo eccentrico personaggio esiste un certo metodo. Per esempio, nel vestibolo del dottor Barnicott, dove anche un piccolo rumore avrebbe potuto risvegliare tutta la casa, il busto è stato portato fuori prima di essere rotto, mentre nella sala di pronto soccorso, dove il pericolo di un allarme era minore, è stato infranto sul posto. Di primo acchitto si direbbe un caso comune, eppure non oso chiamarlo tale, se penso che le mie avventure più classiche hanno spesso avuto un inizio ancor meno promettente. Lei ricorderà a Watson di come ebbi per la prima volta l'esatta intuizione della tragedia della famiglia Bernetti dalla profondità con cui il prezzemolo era affondato nel burro durante la giornata calda. Non posso pertanto concedermi il lusso di sorridere dei suoi tre busti, l'estrade, e le sarò molto obbligato se vorrà tenermi informato sugli eventuali sviluppi ulteriori di questo curioso susseguirsi di avvenimenti. Gli sviluppi che il mio amico attendeva accaddero in modo molto più tragico e rapido di quanto si fosse immaginato. Mi stavo ancora vestendo in camera mia il mattino successivo, quando udì bussare all'uscio e Holmes entrò con un telegramma in mano. Me lo lesse. Diceva «Venga immediatamente. Pitt Street 131, Kensington. L'estrade». «Che cosa è successo?» «Chiesi». «Non lo so. Forse è nulla, ma penso si tratti sempre della storia delle statue. In tal caso, il nostro distruttore d'immagini ha avviato le sue operazioni in un altro quartiere di Londra. Il suo caffè è già pronto sul tavolo, Watson, e io ho fatto venire una vettura alla porta». Nel giro di mezz'ora eravamo in Pitt Street, una stradina tranquilla in riva al fiume, dove la vita londinese fluisce più vivace che altrove. Il numero 131 faceva parte di una fila di abitazioni, tutte piatte, tutte rispettabili e tutte completamente sprovviste di una qualsiasi atmosfera romantica. Appena vi arrivamo davanti con la carrozza, trovammo che la ringhiera prospicente la casa era circondata da una folla di curiosi. Holmes emise un fischio soffocato. «Per Giove! Qui, quantomeno è stato commesso un tentato omicidio. Nessun'altra cosa potrebbe far fermare un fattorino londinese. Nelle spalle curve e nel collo teso di quel tizio leggo un'implicazione di violenza». «Che cos'è questo, Watson? Il gradino superiore è tutto bagnato, mentre gli altri sono asciutti. Un sacco di impronte, comunque. Bene, bene, ecco laggiù le strei dalla finestra di facciate. Così tra poco sapremo ogni dettaglio». Il funzionario ci ricevette con espressione grave e ci introdusse in un salottino dove un uomo anziano, tutto in disordine e vestito di un accappatoio di flanella, stava camminando avanti e indietro a passi concitati. Ci fu presentato come il proprietario dello stabile, il signor Horace Harker dell'Agenzia Centrale della Stampa. «Si tratta di nuovo del busto di Napoleone», ci spiegò l'estrade. «Mi è sembrato che ieri sera la cosa le interessasse, signor Holmes, perciò ho pensato che probabilmente le avrebbe fatto piacere essere presente ora che la vicenda ha assunto una piega molto più seria». «Che cosa è accaduto?» «Un delitto!» «Signor Harker, vuole dire a questi signori quello che è successo, per favore?» l'uomo in vestaglia. L'uomo in vestaglia volse verso di noi un viso adoloratissimo. «È veramente incredibile», cominciò, «che in tutta la mia vita io abbia dovuto collezionare i fatti altrui e adesso che un fatto importantissimo è capitato in casa mia, mi senta talmente confuso e irritato da non riuscire a mettere insieme due parole. Se fossi venuto qui in veste di giornalista, mi sarei visto costretto ad intervistare me stesso e avrei avuto due colonne su tutti i giornali della sera. Ma per come stanno le cose, invece, devo regalare il mio racconto a una serie di persone diverse senza potermene servire. Comunque, la conosco di fama, signor Sherlock Holmes, e se riuscirà a risolvere questo strano rebus, sarò ripagato del disturbo di averle riferito la mia vicenda». Holmes si è detto e si mise in ascolto. «Sembra che tutto ruoti intorno al busto di Napoleone che ho acquistato, proprio per metterlo in questa stanza circa quattro mesi fa. L'ho comperato a Buon Mercato da Harding Brothers, accanto a High Street Station. Gran parte della mia attività giornalistica si svolge di notte e spesso rimango a scrivere fino all'alba. Così è stato oggi. Ero nella mia tana, sul retro dell'ultimo piano verso le tre del mattino, quando ho avuto la netta impressione di aver sentito un rumore da basso. Rimasi in ascolto, ma il rumore non si ripetè e conclusi che doveva essere venuto dall'esterno. Poi, d'improvviso, circa cinque minuti dopo, sentii un urlo spaventoso, il suono più terribile che avessi mai sentito, signor Holmes. Per un paio di minuti restai seduto, paralizzato dal terrore, poi, afferrai la tizzatoio e scesi giù. Entrando in questa stanza, trovai la finestra spalancata e notai subito che il busto era sparito dalla mensola. Perché poi un ladro dovesse rubare un oggetto del genere, non riesco proprio a capirlo. Non era che un calco in gesso di nessun valore. Come lei stesso può vedere, chiunque esca da quella finestra può raggiungere il giardino della porta con un unico lungo passo. Ed evidentemente è ciò che aveva fatto il ladro, perciò andai ad aprire la porta. Uscendo nel buio, quasi caddi sopra un corpo che giaceva a terra. Tornai indietro di corsa per prendere una lampada e vidi così quel povero diavolo con la gola squarciata in un lago di sangue. Giaceva supino con le ginocchia rialzate e la bocca spalancata. Ebbi giusto il tempo di soffiare nel mio fischietto di allarme, poi devo essere svenuto, perché l'unica cosa che ricordo è il poliziotto su di me in anticamera. Ma chi era il morto? Non c'è nulla che possa identificarlo, rispose l'estraid. Lo vedrà all'obitorio, ma fino a questo momento non siamo riusciti a scoprire chi fosse. È un uomo alto, abbronzato, molto vigoroso sui trent'anni al massimo. È vestito poveramente, ma non ha l'aria di un operaio. Accanto a lui, in una pozza di sangue abbiamo trovato un coltello con il manico di corno. Non so se è l'arma del delitto o se invece appartenesse al morto. Niente etichette sui vestiti e niente nelle tasche tranne una mela, un pezzo di corda, una pianta di Londra da un oscellino e una fotografia. Eccola qua. Era evidentemente ricavata da un'istantanea scattata con una macchinetta da poco. Raffigurava un uomo dall'aria sveglia, i lineamenti scimmieschi, sopracciglia molto folte e un viso stranamente prugnato come il muso di un babbuino. «E del busto che cosa ne è stato?» chiese Holmes dopo aver studiato a lungo la fotografia. «Ne abbiamo avuto notizie poco prima del suo arrivo. È stato ritrovato nel giardino di una casa vuota a Camp de Mouse Road. Era a pezzi. Sto appunto andando a vederlo. Vuole venire?» «Certamente. Devo soltanto dare un'occhiata in giro». Holmes esaminò il tappeto e la finestra. «Il nostro amico o aveva le gambe molto lunghe o era straordinariamente agile», osservò. «A questa altezza non deve essere stato molto facile arrivare al davanzale e aprire la finestra. È stato relativamente più facile il ritorno. Viene con noi a vedere quello che resta del suo busto, signor Harker?» L'afflitto giornalista si era seduto a una scrivania. «Devo cercare di cavarne fuori qualcosa», rispose. «Anche se sicuramente i giornali della sera sono già usciti in prima edizione con i titoli a quattro colonne. La mia solita fortuna». «Rammenta quando crollò la tribuna a Doncaster?» «Beh, ero l'unico giornalista in tribuna e il mio giornale fu l'unico che non pubblicò la notizia perché ero rimasto troppo scosso per scrivere il pezzo. E adesso sarò in ritardo per un omicidio compiuto proprio sulla porta di casa mia». Mentre uscimmo dalla stanza sentimmo il pennino che stradeva sui fogli protocollo. Il punto dove erano stati rinvenuti i frammenti del busto distava solo poche centinaia di metri. Per la prima volta posammo gli occhi sull'immagine del grande imperatore che sembrava scatenare un odio maniacale e distruttivo nella mente del nostro sconosciuto iconoclasta che giaceva sull'erba in mille pezzi. Holmes ne raccolse parecchi esaminandoli con attenzione. Dalla sua espressione concentrata e decisa capì che finalmente aveva trovato un indizio. «Ebbene?» chiese l'estrade. Holmes si strinse nelle spalle. «Abbiamo ancora molta strada da fare», disse. «Eppure...» «Beh, abbiamo qualche suggestivo punto di partenza. Agli occhi di questo strano criminale il possesso di questo busto aveva molto più valore di una vita umana. Questo è un primo punto. Il secondo è il fatto strano che non si sia introdotto nella casa o subito fuori di essa se il suo unico scopo era quello di fare a pezzi il busto. Era rimasto sconcertato e spaventato trovandosi di fronte quell'altro. Aveva perduto la bussola. Sì, può darsi, ma vorrei richiamare la sua attenzione sulla posizione di questa casa nel cui giardino è stato distrutto il busto. L'estrade si guardò attorno. È una casa vuota e quindi sapeva che nessuno lo avrebbe disturbato. D'accordo, ma a poca distanza c'è un'altra casa vuota e sicuramente deve esserci passato davanti prima di arrivare a questa. Perché non si è fermato là dal momento che evidentemente ogni metro in più che percorreva portando in braccio il busto aumentava il rischio che qualcuno lo potesse vedere? Ah, rinuncio a capire, disse l'estrade. Holmes indicò con il dito il lampione sopra le nostre teste. Qui poteva vedere quello che faceva mentre là non poteva. E questa è la ragione. Per Giove, ma è vero, esclamò il poliziotto. Ora che ci penso, il busto del dottor Barnicott è stato rotto a poca distanza dalla sua lampada rossa. Dunque, signor Holmes, come dobbiamo comportarci riguardo a questa faccenda? Dobbiamo ricordarla e catalogarla. Può darsi che in seguito riusciremo a scovare qualche indizio che ci porterà ad un risultato definitivo. E lei che passi intende fare per ora l'estrade? A me sembra che il mezzo più pratico per giungere ad un risultato positivo sia quello di identificare il morto. Non ci dovrebbero essere difficoltà in proposito. Una volta scoperto chi è o chi sono i suoi complici, dovremmo aver compiuto un bel passo avanti nel sapere che cosa facesse in Pit Street la notte scorsa e chi fosse colui che ha incontrato e che lo ha ucciso sulla soglia del signor Harker? Non le pare? Certo e tuttavia non è esattamente questo il modo in cui io affronterei il caso. E dunque che cosa farebbe lei? Oh non voglio influenzarla minimamente le consiglio di seguire i suoi metodi mentre io seguirò i miei dopodiché confronteremo i nostri dati e li completeremo a vicenda. Benissimo se rientra in Pit Street potrebbe andare dal signor Harker e dirgli da parte mia che la mia opinione in merito è ormai confermata e che sono convinto sia un pazzo omicida in preda a delusioni napoleoniche colui che è penetrato in casa sua la notte scorsa gli servirà ottimamente per il suo pezzo. Lestrade lo fissò sbalordito. Non crederà sul serio? Holmes sorrise. No? Beh, forse ha ragione ma sono dell'idea che questa notizia interesserà il signor Harker e i soci dell'agenzia centrale della stampa e adesso Watson penso che ci aspetti una lunga e complessa giornata di lavoro. Sarei lieto Lestrade se potesse raggiungerci stasera alle 6 in Baker Street. Fino a quel momento vorrei conservare la fotografia rinvenuta in tasca al morto. Può darsi che debba chiederle aiuto e assistenza per una piccola spedizione che dovremmo intraprendere stanotte se le teorie che mi sono formato in proposito si dimostreranno esatte ma per il momento arrivederci e buona fortuna. Sherlock Holmes può intendere di risolvere ogni cosa in 448 mi disse allora bisognerà che torniamo nel pomeriggio come lei avrà certamente intuito sto tentando di ricostruire la storia di questi busti risalendo alla loro origine per capire se esiste qualche elemento caratteristico che possa spiegare il loro incomprensibile destino. Andiamo dal signor Morse Hudson quello di Kennington Road e vediamo se almeno lui riesce a fare un po' di luce sul nostro problema un tragitto di un'ora in carrozza ci condusse dal commerciante di oggetti artistici Hudson era un omino tarchiato dalla faccia rossa e dai modi molto vivaci sì signore proprio qui su questo banco ci disse pensare che non facciamo che pagare tasse imposte di tutti i generi e poi il primo mascalzone che passa ti viene in negozio e ti spacca la merce sì signore sono stato io a vendere i due busti al dottor Barnicott un vero scandalo è un complotto nichilista può esserne certo chi se non un anarchico andrebbe in giro a spaccare le statue sono degli estremisti può starne sicuro da chi ho preso i busti non vedo in che cosa questo possa servirle comunque se proprio ci tiene a saperlo li ho acquistati da Gelder e Sochi a Stepney in Church Street è una ditta molto conosciuta in questo campo da vent'anni quanti ne avevo tre due quelli del dottor Barnicott e uno fracassato in pieno giorno proprio sul mio bancone se riconosco quella foto no proprio no aspetti però forse sì ma certo è Beppo una specie di cottimista un italiano che mi dava una mano in negozio sapeva scolpire un po' fare le dorature le cornice lavoretti del genere si è licenziato la settimana scorsa e non ne ho saputo più niente no non so da dove veniva né dove sia andato finché è rimasto qui non me ne potevo lamentare ma se ne è andato due giorni prima che il busto venisse fatto a pezzi bene questo è quanto potevamo ragionalmente aspettarci da Morse Hudson disse Holmes mentre uscivamo dal negozio abbiamo questo Beppo come comun denominatore sia nel caso di Kennington che in quello di Kensington quindi vale la pena di fare una scarrozzata di 10 miglia adesso Watson andiamo da Gelder & Co a Stepney la fonte originaria dei busti mi meraviglierei se non ne ricavassimo qualche aiuto in rapida successione attraversammo i quartieri della Londra bene della Londra teatrale della Londra letteraria della Londra commerciale e infine della Londra marittima fino ad arrivare a una cittadina del lungo fiume dove i casamenti formicolano e olezzano del paria di tutta Europa qui in una grande arteria un tempo residenza dell'elite mercantile della città trovammo la fabbrica di sculture che stavamo cercando all'esterno si apriva un ampio cortile pieno di enormi costruzioni in muratura all'interno un vasto locale dove una cinquantina di operai erano intenti a scolpire o a modellare il direttore un grosso tedesco biondo ci accolse cortesemente rispondendo con chiarezza a tutte le domande di Sherlock Holmes un controllo dell'archivio rivelò che centinaia di calchi erano stati ottenuti da una copia di marmo della testa di Napoleone scolpita da Devin ma che i tre spediti più o meno un anno prima a Morse Hudson facevano parte di un gruppo di sei gli altri tre erano stati mandati alla Hardin Brothers di Kensington non c'era motivo perché i sei busti fossero diversi da tutti gli altri calchi l'uomo non poteva suggerirci alcuna ragione per cui qualcuno volesse distruggerli anzi trovava divertente l'idea il prezzo all'ingrosso era di sei scellini ma al dettaglio se ne potevano ricavare dodici o anche di più il calco era ottenuto con due fusioni una per ogni lato della faccia poi le due metà in gesso venivano unite per formare un busto completo il lavoro veniva generalmente eseguito da operai italiani proprio nel locale dove eravamo una volta finiti i busti venivano collocati su di un tavolo nel corridoio ad asciugare poi andavano in magazzino e questo era quanto poteva dirci ma la fotografia che Holmes gli mostrò ebbe un notevole effetto sul direttore ah quel cialtrone esclamò certo lo conosco benissimo questa è sempre stata un'azienda rispettabile e l'unica volta che abbiamo ricevuto una visita della polizia è stata proprio per questo individuo ormai è passato più di un anno aveva accoltellato un altro italiano per la strada poi era venuto a lavorare con la polizia alle calcagna e qui lo hanno arrestato si chiamava Beppo ma non ho mai saputo il suo cognome mi sta bene non dovevo assumere un tipo con quella faccia ma era un buon operaio uno dei migliori e che condanna ha avuto il ferito non è morto quindi se l'è cavata con un anno sicuramente adesso è in libertà ma non ha avuto il coraggio di farsi vedere qui da noi lavora un suo cugino immagino che potrà dirle dove si trova adesso no no non una parola al cugino esclamò Holmes la prego non una parola si tratta di una faccenda molto importante e più vado avanti più importante sembra farsi quando lei ha controllato sui registri la vendita di quei calchi ho notato che la data era il 3 giugno dell'anno scorso saprebbe dirmi in che giorno è stato arrestato Beppo potrei dirglielo grosso modo in base alla lista paga rispose il direttore vediamo continuò sfogliando le pagine eccolo qua è stato pagato l'ultima volta il 20 di maggio grazie mille disse Holmes credo che ora non dovrò più abusare del suo tempo e della sua pazienza con un'ultima raccomandazione di non parlare delle nostre indagini ci dirigemmo di nuovo ad est era già pomeriggio inoltrato quando riuscimmo a mangiare un boccone in un ristorante all'ingresso un bollettino di informazione annunciava delitto a Kensington un pazzo uccide e il contenuto dell'articolo dimostrava che dopo tutto il signor Harker era riuscito a mandare il suo pezzo in tempo un resoconto drammatico e fiorito dell'incidente occupava ben due colonne Holmes appoggiò il giornale all'oliera e si mise a leggerlo mentre mangiava un paio di volte lo sentì ridacchiare senta che bello Watson mi disse i lettori saranno lieti di sapere che in merito a questo caso esiste una concordanza di vedute infatti l'ispettore Lestrade uno dei più esperti funzionari della nostra polizia e il signor Sherlock Holmes il famoso consulente criminologo sono giunti entrambi alla conclusione che la grottesca serie di incidenti sfociati poi in una simile tragedia siano frutto di una mente malata più che di una deliberata intenzione criminosa l'unica spiegazione dei fatti è quella di un'aberrazione mentale la stampa caro Watson è un'istituzione preziosa se solo si sa farne uso e ora se ha terminato di mangiare torniamo a Kensington e sentiamo cosa da dirci il direttore della Harding Brothers il direttore del grande emporio era un ometto vispo e arzillo azimato e intelligente con le idee chiare e la lingua sciolta sì signore ho già letto il resoconto nei giornali della sera il signor Horace Harker è un nostro cliente gli abbiamo venduto il busto qualche mese fa ne avevamo ordinati tre di quel tipo alla Gelder & Co sono stati tutti venduti a chi? credo che potremmo dirglielo facilmente consultando il registro delle vendite sì ecco le registrazioni vede uno al signor Harker uno al signor Josiah Brown di Laburnum Lodge Cheeswick e un altro al signor Sandeford di Lower Grove Road a Reading no non ho mai visto la persona che lei mi mostra in questa fotografia non credo che sia difficile dimenticarsene non le pare raramente ho visto una faccia più brutta se abbiamo degli italiani nel personale sì ne abbiamo parecchi tra i nostri operai e pulitori certo che possono dare un'occhiata a questo registro se vogliono non abbiamo nessun motivo particolare per tenerlo nascosto è proprio una strana storia spero che mi farà sapere quello che potrà risultare dalle indagini durante il colloquio con il signor Harding Holmes aveva preso parecchi appunti e mi parve di capire che fosse parecchio soddisfatto della piega che avevano assunto gli avvenimenti non fece però nessuna osservazione eccetto il fatto che se non ci fossimo affrettati saremo stati in ritardo per il nostro appuntamento con l'estrade infatti quando arrivamo finalmente a Baker Street trovamo il poliziotto che già ci aspettava e stava passeggiando avanti indietro febbricitante dall'impazienza dalle aree che si dava compresi che non aveva speso la sua giornata in un lavoro infruttuoso dunque domandò com'è andata Holmes abbiamo avuto una giornata pienissima e non posso dire che sia stata del tutto sciupata gli rispose il mio amico siamo stati tanto dai commercianti quanto dai fabbricanti e sono in grado di rintracciare ciascun busto fin dall'origine oh i busti esclamò l'estrade beh lei ha i suoi sistemi caro Holmes e non sta a me criticarli ma credo che oggi la mia giornata sia stata più proficua della sua ho identificato il morto e ho scoperto il movente del delitto meraviglioso abbiamo un ispettore che si è specializzato nella zona di Saffron Hill nel quartiere italiano ecco il morto aveva al collo un emblema cattolico e questo oltre al colore della sua faccia mi ha fatto pensare che potesse essere del sud ora l'ispettore Hill lo ha riconosciuto non appena lo ha visto è un certo Pietro Venucci di Napoli uno dei peggiori tagliagole di Londra era in rapporti con la mafia la quale come sa è una società segreta criminale che dà forza i propri ordini con l'omicidio lei capisce che in questo modo la faccenda comincia a farsi chiara probabilmente anche l'altro è un italiano e un affiliato alla mafia probabilmente costui ha infranto le regole e Pietro gli si è messo alle calcagne probabilmente la fotografia che gli abbiamo trovato in tasca è quella dell'assassino e gli era stata data perché non accoltellasse un altro per errore Pietro insegue il tizio lo vede entrare in casa lo aspetta fuori ma nel corpo a corpo ha la peggio che cosa gliene pare signor Holmes Sherlock Holmes batte le mani in segno di approvazione magnifico l'estrade magnifico proruppe non vedo però come la sua teoria si riesca a spiegare con la distruzione dei busti i busti non riesce proprio a togliersi di testa quei maledetti busti del resto si tratta di una stupidaggine di un furtarello da niente che può fruttare al massimo sei mesi in realtà quello che a noi interessa è l'omicidio e le garantisco che ho già in mano quasi tutti quanti i fili quale sarà la sua prossima mossa? è semplicissimo mi recherò con Hill nel quartiere italiano scoprirò l'uomo di cui possediamo la fotografia e lo arresterò con l'accusa di omicidio vuole per caso venire con noi? non credo penso invece di poter raggiungere il nostro scopo con un mezzo più semplice non ne sono però ancora completamente sicuro poiché tutto dipende tutto dipende da un fattore assolutamente fuori del nostro controllo nutro tuttavia grandi speranze e anzi sarei pronto a scommettere due contro uno che se verrà con noi stasera sarò in grado di acchiappare il suo uomo nel quartiere italiano? no ho l'impressione che lo troveremo più facilmente a Cheeswick se stasera verrà con me l'estrade le prometto di accompagnarla domani al quartiere italiano e vedrà che questo piccolo ritardo non le porterà alcun danno e adesso credo che qualche ora di sonno non ci farà male poiché non ho intenzione di uscire prima delle undici ed è probabile che non rientreremo fino a domani mattina lei ce n'erà con noi l'estrade quindi potrà sdraiarsi sul divano finché non sarà il momento della partenza intanto Watson le sarei grato se facesse venire un fattorino espresso perché devo spedire una lettera ed è importante che parta subito Holmes trascorse la serata a rovistare fra i ritagli dei vecchi quotidiani che riempivano uno dei nostri ripostigli quando finalmente ridiscese aveva una luce di trionfo negli occhi ma non ci disse una parola cerca il risultato delle sue ricerche per conto mio avevo seguito passo per passo i metodi con i quali aveva tracciato le circonvoluzioni di quel caso tanto complesso e pur non riuscendo ancora a capire quale scopo avremmo raggiunto mi rendevo chiaramente conto che Holmes sperava che quel buffone criminale prendesse di mira i due busti che ancora restavano uno dei quali ricordai si trovava a Cheeswick senza dubbio lo scopo del nostro viaggio era di coglierlo sul fatto e non potevo fare a meno di ammirare l'astuzia con cui il mio amico era riuscito a far inserire nei giornali della sera un'informazione errata per far credere all'assassino di poter continuare impunemente nei suoi propositi perciò non fui sorpreso quando Holmes mi avvertì di prendere con me la rivoltella quanto a lui si era munito del frustino da cavallo con il manico di piombo pieno la sua arma preferita una carrozza venne a prenderci alle undici e ci facemmo condurre in una località situata sul lato opposto del ponte Hammersmith una volta giunti lì fu dato ordine al cocchiere di aspettare con una breve camminata arrivamo in una strada appartata fiancheggiata da case graziose tutte quante circondate da terreno proprio alla luce di un fanale leggemmo scritto sul cancello di una delle abitazioni Villa Laburnum i suoi occupanti si erano evidentemente ritirati per dormire poiché tutto era buio all'infuori di un piccolo lampioncino sulla porta d'ingresso che gettava un unico cerchio di luce sul sentiero del giardino la palizzata di legno che separava la proprietà dalla strada proiettava una fitta ombra nera sul lato interno e fu lì che noi ci acquattammo temo che dovremo aspettare a lungo sussurrò Holmes possiamo ringraziare la nostra buona stella se non piove però non credo ci convenga rischiarci a fumare per passare il tempo in ogni caso spero solo che succeda qualcosa che ci ripaghi di tutto questo disturbo la nostra veglia però non fu lunga come Holmes ci aveva fatto temere e si concluse in modo impensabile e del tutto imprevisto ad un tratto senza che il benché minimo rumore ci preavvisasse il cancello del giardino si aprì e una figura snella e bruna agile e rapida come quella di una scimmia irruppe sul sentiero la vedemmo scivolare svelta al di là del cerchio di luce proiettato da sopra lo stipide della porta e sparire contro l'ombra scura della casa seguì una lunga pausa durante la quale tutti noi trattenemmo il respiro poi uno scricchiolio appena percettibile giunse alle nostre orecchie la finestra era quasi stata aperta il rumore cessò e seguì un altro lungo silenzio lo sconosciuto stava entrando in casa il guizzo improvviso di una lanterna cieca illuminò una stanza ma quello che l'intruso stava cercando doveva evidentemente essere da un'altra parte poiché rivedemmo il guizzo attraverso un'altra persiana e poi attraverso un'altra ancora avviciniamoci alla finestra aperta lo sorprenderemo mentre scende bisbigliò l'estrade ma prima che potessimo muoverci l'uomo era riapparso al chiarore incerto del lampioncino vedemmo che trasportava sotto braccio qualcosa di bianco si guardò in giro con aria sospettosa ma il silenzio della strada deserta lo rassicurò allora voltandoci la schiena posò a terra il suo fardello e quasi subito si udì un tonfo secco seguito dal clangore di cocci infranti l'uomo era talmente immerso nella propria opera di distruzione che non avvertì neppure il rumore dei nostri passi mentre ci avvicinavamo furtivamente a lui attraverso la iuola Holmes gli fu addosso con un balzo felino e un attimo dopo l'estrade lo afferrò per i polsi e gli mise le manette quando lo voltammo vedemmo una faccia ributtante giallognola con i lineamenti alterati da un ghigno furibondo e subito compresi che colui che avevamo catturato era proprio l'uomo della fotografia l'attenzione di Holmes però non era per nulla tratta dal nostro prigioniero accovacciato sulla soglia stava ispezionando con la massima attenzione l'oggetto che l'uomo aveva portato via dalla casa era un busto di Napoleone come quello che avevamo visto la mattina e come quello era stato mandato in frantumi Holmes lo esaminò minuziosamente alla luce coccio per coccio ma nessuno dei pezzi di gesso differiva dall'altro aveva appena completato il suo studio quando le luci dell'ingresso si accesero la porta si aprì e comparvi davanti a noi il proprietario dello stabile un personaggio gioviale e panciuto in camicia e pantaloni il signor il signor Josiah Brown immagino disse Holmes in persona e lei senza dubbio è il signor Sherlock Holmes ho ricevuto il biglietto che mi ha mandato ieri con il fattorino e ho fatto esattamente quello che mi ha detto sono lieto di vedere che ha ciuffato quel furfante spero signori che vogliate entrare a bere qualcosa ma Lestrade era ansioso di mettere il suo uomo al sicuro perciò in pochi minuti era arrivata la carrozza e tutti e quattro ci stavamo dirigendo verso Londra il nostro prigioniero non diceva una parola ma girava lo sguardo dall'uno all'altro da sotto la zazzara che gli gettava un'ombra sul viso e una volta quando la mia mano sembrava a portata della sua tentò di azzannarla come un lupo famelico noi ci trattenemmo nella stazione di polizia quel tanto che bastò per sapere che una perquisizione del nostro uomo non aveva fruttato che pochi scellini e un lungo coltello in una guaina con il manico ampiamente schizzato di sangue fresco tutto a posto disse Lestrade mentre prendevamo congedo Hill conosce tutti questi gentiluomini e ci dirà come si chiama vedrà che la mia teoria circa la mafia si dimostrerà esatta comunque signor Holmes le sono infinitamente grato per la professionalità con cui è riuscito a mettergli le mani addosso ancora non capisco bene come ha fatto però temo che ora sia troppo tardi per imbarcarsi in una spiegazione rispose Holmes inoltre ci sono ancora un paio di punti oscuri e questo è un caso che vale la pena seguire fino in fondo se domani alle 6 vorrà tornare da me credo che potrò dimostrarle che lei non ha ancora afferrato la reale portata di questa faccenda che sotto certi aspetti è più unica che rara in quanto a lei Watson se mai le permetterò di raccontare altri dei miei piccoli problemi prevedo che scriverà pagine brillanti sulla strana avventura dei busti di Napoleone quando ci rivedemmo la sera seguente l'estrade ne sapeva molto di più sul nostro prigioniero a quanto pareva si chiamava Beppo il cognome era sconosciuto la comunità italiana lo conosceva bene come un fannullone una volta era stato un abile scultore e si era guadagnato da vivere onestamente poi aveva preso una brutta strada ed era stato già due volte in galera la prima per un piccolo furto e la seconda come già sapevamo per aver accoltellato un compatriota non si era ancora scoperto il motivo per cui distruggeva i busti e in quanto a lui rifiutava di rispondere ad ogni domanda in proposito ma la polizia aveva scoperto che forse quei busti li aveva fatti lui con le sue mani dal momento che era proprio questo il tipo di lavoro che svolgeva alla Gelder & Co Holmes ascoltava con cortesa attenzione queste informazioni che per buona parte già ci erano note ma conoscendolo come lo conoscevo io mi rendevo conto che pensava ad altro e dietro quella maschera che spesso assumeva il suo viso scorgevo un misto di disagio e di speranza alla fine sobalzò leggermente sulla sedia e gli si illuminarono gli occhi qualcuno aveva suonato il campanello un minuto dopo sentimmo dei passi su per le scale e un uomo anziano rubizzo con i favoriti brizzolati entrò nella stanza con la mano destra portava una vecchia sacca di tela che posò sul tavolo uno di voi è il signor Sherlock Holmes il mio amico fece un cenno di saluto con il capo sorridendo il signor Sandiford di Reading immagino disse proprio io signore forse sono un po' in ritardo ma i treni erano un disastro lei mi ha scritto a proposito di un busto in mio possesso esattamente ho qui la sua lettera lei scrive desidero avere una copia del Napoleone di Devin e sono pronto a versarle dieci sterline per quello che è in suo possesso è giusto? giustissimo sono rimasto molto sorpreso per la sua lettera perché non riuscivo a capire come lei facesse a sapere che avevo un busto del genere non dubito che lei sia rimasto sorpreso ma la spiegazione è semplicissima il signor Harding della Harding Brothers mi ha detto che l'ultimo esemplare era stato venduto a lei e mi ha dato il suo indirizzo tutto qui ah è così? e le ha anche detto quanto lo ho pagato? no questo non me lo ha detto beh anche se non sono ricco sono una persona onesta io l'ho pagato soltanto 15 scellini e mi sembrava giusto dirglielo prima di accettare da lei ben 10 sterline uno scrupolo che le fa onore signor Sandiford ma ho indicato quel prezzo ed intendo mantenerlo è molto generoso da parte sua signor Holmes ho portato il busto con me come mi aveva chiesto eccolo qui aprì la sacca di tela e poggiò sul tavolo una copia esatta del busto che già altre volte avevamo visto ridotto a pezzi Holmes prese di tasca un foglietto e posò un biglietto di 10 sterline sul tavolo voglio gentilmente fermare questo foglio signor Sandiford in presenza di testimoni dice semplicemente che lei trasferisce a me ogni possibile diritto lei abbia mai vantato su questo busto vede sono un tipo metodico e non si sa mai cosa potrebbe accadere grazie signor Sandiford eccole il denaro le auguro una buona serata quando il nostro visitatore se ne fu andato Holmes agì in modo tale da inchiodare la nostra attenzione cominciò a prendere dal cassetto un panno bianco che posò sul tavolo poi al centro di esso collocò il suo recente acquisto infine prese il frustino e diede un colpo secco sulla testa di Napoleone la scultura andò in frantumi e Holmes si chinò sui frammenti con espressione ansiosa poco dopo lanciò un grido di esultanza mostrandoci una scheggia alla quale era fissato un piccolo oggetto rotondo come un chicco d'uvetta nel padding signori esclamò permettetemi di presentarvi la famosa perla nera dei Borgia per un attimo le stree ed io restammo seduti in silenzio poi con un impulso spontaneo applaudimmo entrambi come alla fine di un dramma ben congegnato le pallide guance di Holmes si incorporarono e ci fece un inchino proprio come un attore che si inchina al pubblico applaudente era in momenti come questi che per un attimo cessava di essere una macchina pensante e tradiva la sua umana gratificazione per la lode e l'applauso quella sua stessa natura estremamente orgogliosa e riservata che disdegnava la fama popolare era capace di commuoversi per l'amirazione e l'elogio spontaneo da parte di un amico proprio così signori continuò questa è la perla più famosa che esista oggi al mondo e grazie a una lunga serie di speculazioni deduttive sono riuscito a ricostruirne le peregrinazioni dalla stanza da letto del principe nel Dacre Hotel dove era stata smarrita fino all'interno di questo calco l'ultimo dei sei busti di Napoleone fabbricati dalla Gelder Senko Lei Lestrade ricorderà sicuramente l'enorme scalpore che suscitò la scomparsa di questa preziosa gemma e gli inutili sforzi della polizia londinese per ritrovarla in quell'occasione consultarono anche me ma fallì pure io i sospetti caddero sulla cameriera della principessa che era italiana e come fu dimostrato aveva un fratello a Londra ma non riuscimmo a trovare alcun collegamento fra i due la ragazza si chiamava Lucrezia Venucci e sono più che certo che questo Pietro che è stato assassinato due sere fa fosse suo fratello ho controllato le date nelle vecchie copie del giornale e ho scoperto che la perla era scomparsa esattamente due giorni prima che Beppo fosse arrestato per un sanguinoso delitto evento che ebbe luogo nella fabbrica della Gelder & Co proprio nel periodo in cui venivano eseguiti quei busti ora vedete chiaramente l'ordine in cui si sono svolti i fatti naturalmente nell'ordine inverso rispetto a quello in cui sono stati presentati a me Beppo aveva la perla forse l'aveva sottratta Pietro forse era stato suo complice forse aveva fatto da tramite fra Pietro e sua sorella questo non ha importanza il fatto essenziale è che aveva la perla e che proprio allora quando la portava con sé era braccato dalla polizia si diresse verso la fabbrica dove lavorava sapendo di avere solo pochi minuti per nascondere quella gemma senza prezzo che altrimenti a una perquisizione gli sarebbe stata trovata addosso si del caso che nel corritoio stavano ad asciugare sei busti di Napoleone uno di essi era ancora morbido e in un attimo Beppo artigiano esperto fece un foro nel gesso umido ci infilò la perla e con pochi tocchi lo richiuse un nascondiglio perfetto nessuno avrebbe potuto trovarla ma Beppo fu condannato ad un anno di prigione e nel frattempo i suoi sei busti vennero sparpagliati per tutta Londra non sapeva dove fosse finito il suo tesoro poteva scoprirlo solamente frantumandoli nemmeno scuotendoli avrebbe potuto identificare quello giusto dal momento che il gesso era ancora umido quando aveva nascosto la perla che probabilmente era rimasta attaccata come infatti era ma Beppo non si diede per vinto e condusse la sua ricerca con notevole furberia e perseveranza tramite un cugino che lavorava per Gelder rintracciò i dettaglianti che avevano acquistato i busti riuscì anche a farsi assumere da Morsatzon e in tal modo ne rintracciò tre ma in quei tre la perla non c'era allora con l'aiuto di qualche dipendente italiano riuscì a scoprire dove erano andati a finire gli altri tre busti il primo era in casa di Arker e lì fu pedinato dal suo compare che riteneva Beppo responsabile della perdita della perla e lo pugnalò nella colluttazione che ne seguì se era suo complice perché ne portava con sé la fotografia domandai per rintracciarlo chiedendo sue notizie ad altre persone bene calcolai che dopo l'omicidio Beppo avrebbe probabilmente affrettato le cose anziché rallentarle temeva che la polizia potesse scoprire il suo segreto quindi fece di tutto per precederla naturalmente non potevo affermare con sicurezza che non avesse trovato la perla nel busto di Arker non ero nemmeno certo che si trattasse effettivamente della perla ma mi sembrava evidente che stesse cercando qualcosa dal momento che aveva portato il busto fuori della casa per poi romperlo in un giardino bene illuminato dato che quello di Arker era uno dei tre busti le possibilità erano esattamente come ve le ho indicate ossia di due contro uno che la perla non ci fosse rimanevano due busti e ovviamente avrebbe cercato di impossessarsi per primo di quello che si trovava a Londra avvisai quindi gli occupanti della casa per prevenire un'altra tragedia e ci recammo sul posto con risultati eccellenti direi a quel punto naturalmente sapevo per certo che stavamo inseguendo la perla dei Borgia il nome dell'ucciso infatti collegava agli eventi rimaneva un unico busto quello di Reading e la perla doveva necessariamente trovarsi in quello davanti a voi poi l'ho acquistato dal proprietario ed ecco qua la perla restammo per un po' in silenzio bene disse alla fine l'estrade l'ho veduta affrontare molti casi signor Holmes ma mai nessuno con tanta abilità non siamo certo gelosi di lei a Scotland Yard anzi ne siamo molto orgogliosi e se domani farà una scappata da noi non ci sarà un solo poliziotto dall'ispettore più anziano alla recluta più giovane che non sarà felice di stringerle la mano grazie grazie disse Holmes e mentre si girava dall'altra parte mi parve di vederlo sul punto di commuoversi per un'emozione umana più di quanto non l'avessi mai visto prima un attimo dopo però era tornato ad essere il ragionatore freddo e pratico di sempre metta la perla in cassaforte Watson mi disse e tiri fuori i documenti del caso di falsificazione con Singleton arrivederci Lestrade se le capitasse qualche altro piccolo problema sarei felicissimo se potrò di darle un paio di suggerimenti per risolverlo grazie a tutti